Crisi in Abruzzo sempre più preoccupante e la ripresa diventa una meteora anche per colpa di chi al potere a livello regionale negli ultimi anni non avrebbe utilizzato le risorse arrivate dall'Unione Europea per progetti concreti ma soltanto per pura propaganda personale. Chiaro il riferimento all'ex assessore regionale Paolo Gatti, la denuncia arriva da Guido Paci, responsabile della commissione lavoro del PSI Abruzzo. Certamente una percentuale di responsabilità la politica regionale ce l'ha perché comunque ricade sulla politica la questione relativa al mondo del lavoro e la disoccupazione. Certamente in questi ultimi cinque anni abbiamo avuto personaggi politici che sostanzialmente hanno fatto continuamente campagne elettorali grazie ai contributi europei e regionali per quanto riguarda il settore lavoro ed ecco che siamo arrivati a questo punto qui. Per il PSI la politica dei corsi di formazione e la strutturazione attuale dei centri per l'impiego si sono rivelate un completo fallimento. Assolutamente sì, è da un periodo, da un po' di tempo, da qualche anno che sostengo che i centri per l'impiego assolutamente in questo momento non servono a niente se non a far incontrare il mondo del lavoro con una percentuale bassissima, cioè il 2% di persone che trovano lavoro lo trovano grazie ai centri per l'impiego i restanti dalle agenzie interinali. Quindi bisogna rivedere un po' un attimino il tutto, ripotenziare questi centri per l'impiego non dico di chiuderli perché comunque sono una realtà lavorativa che impiegano 8.000 persone a livello nazionale però rimodellarli a sistemi attuali insomma tutto qui ecco. A livello politico il PSI ricorda al PD di essere alleato e pretende più coinvolgimento da parte del segretario provinciale Gabriele Minosse Sì, soprattutto nel Terramano perché se guardiamo la realtà nelle altre tre province c'è più un dialogo con il PD nel Terramano riesce un pochino difficile, forse probabilmente ancora la questione relativa alla scissione, alla spaccatura che abbiamo avuto qualche anno fa nel PSI, tra PSI e libera socialisti che ci pongono un attimino nei confronti del PD al 50% ecco diciamo ma questa naturalmente è una problematica che si deve risolvere cercheremo di chiedere un incontro con il segretario provinciale del PD per cercare di migliorare questo nostro rapporto E proprio Guido Paci potrebbe essere il candidato al rinnovo della segreteria provinciale del PSI Terramo nella prossima primavera? In questo momento non si possono fare nomi perché si dice sempre che il candidato Papa viene bruciato quindi non facciamo nomi però vediamo di metterci persone che siano, non dico non solo capaci ma anche vogliose e desiderose di portare avanti il pensiero socialista nel Terramano Grazie a tutti